Carissimi amici, eccomi qua a casa con tutta la mia famiglia fortunatamente, tutti insieme. E a casa sono obbligato a restare, il resto per senso civico, per dare una mano ai tanti amici che sono impegnati sul fronte della sanità, che mi mandano messaggi veramente allarmanti e allarmati, io credo che la situazione sia molto seria, ma che presa seriamente, senza panico, senza disperazione, possa essere superata, vinta anche in tempi relativamente brevi. Per il momento è fondamentale attenersi alle regole che ci danno gli operatori del settore e fare tutto il possibile per combattere questa battaglia tutti assieme. E alla fine ce la faremo. Per ora bisogna restare a casa.